Mercoledì il cantiere è stato ufficialmente consegnato alla ditta che si è aggiudicata l'appalto. I lavori però prenderanno il via solo lunedì prossimo. Sono le opere relative alla messa in sicurezza di tre importanti tratti delle provinciali che collegano Varzo Capoluogo alla frazione montana di San Domenico in Val di Vedro. Un investimento complessivo che supera i 3 milioni di euro e che servirà ad allargare un tratto della Varzo Gebbo e due della Gebbo San Domenico. Le località interessate dai lavori sono Maulone che è il primo punto che si incontra salendo da Varzo, poi Bolime e San Bernardo arrivando a San Domenico. La ditta che si è aggiudicata ai lavori è la Civelli di Gavirate in provincia di Varese. Lo scorso mese di novembre nel corso di una conferenza stampa provincia del Vicio e Comune di Varzo hanno salutato con soddisfazione l'appalto del cantiere. C'era il rischio di perdere il finanziamento. Anche per questo mercoledì mattina il presidente Alessandro Lanna accompagnato dal consigliere delegato alla via militare Inoporini ha voluto compiere un sopralluogo nell'area di cantiere lungo la strada di San Domenico. Da cronoprogramma il cantiere durerà più di un anno, si partirà dalla parte più a monte per l'intervento in località Maulone. Infatti occorrerà attendere l'arrivo di temperature e miti, lo richiede la tipologia di lavoro. La messa in sicurezza della strada favorirà anche il progetto di sviluppo che la società San Domenico Schi sta portando avanti. Terminato l'ammodernamento di importanti strutture alberghiere in fase di completamente il montaggio del nuovo impianto a fune che porterà sciatori ed escursionisti sulle piste e sulle vette di vedrine.